C'era una cena per due per San Valentino, basta fare una storia romantica che il pettorale vede in pista e tagare Trieste in Spring Run, entro le 11 verrà annunciato il vincitore. Abbiamo ancora 8 minuti per attendere questa partenza delle ore 10 con mascherina io ti conosco. Un saluto e buongiorno amica Bruno, sempre qui con noi a tutte le manifestazioni di tua impiazzabilità. Grazie Bruno! Grazie a tutti!